Ieri la diffida di incrementare almeno 10 punti di distribuzione dei kit mastelli per la raccolta differenziata dei rifiuti. Oggi il sindaco Francesca Valenti punta il dito contro quelle che definisce gravi inadempienze contrattuali da parte delle ditte che si sono aggiudicate, i servizi del Piano Auro, a cominciare dalla gestione della fase di consegna dei contenitori e dei disagi arrecati agli utenti. Le ditte sono in ritardo notevolissimo, in ritardo non scusabile in alcun modo perché ci sono inadempimenti gravi, inesatti adempimenti gravi e anche adesso per l'ennesima volta dimostrano un'incapacità di gestione, diciamocelo francamente, perché già il porta a porta doveva partire mesi fa, dobbiamo anche questo dirlo. Adesso al ridosso della scadenza loro comunque non hanno provveduto per tempo a dotare i cittadini dei mastelli necessari e non lo hanno fatto. Il problema è che questo servizio che doveva essere fatto da loro perché questo impegno era un impegno contrattuale non è stato fatto. Non è stata fatta la consegna porta a porta come era prevista, la consegna domiciliare del mastello. Alla fine si sono istituiti queste due postazioni per la consegna dei mastelli, due postazioni che sono troppo poche, certamente troppo poche e poi con orari ridicoli. Mi si consenta perché siamo al ridosso della partenza della differenziata e loro stanno aperti al mattino, iniziano alle 9 del mattino, finiscono alle 13 e poi il pomeriggio già alle 17 sono chiusi con delle file interminabili. Quando si assume un impegno contrattuale si deve essere in grado di mantenerlo e tutta quella che è l'attività sia prima che durante deve essere gestita da chi assume il servizio. Non dobbiamo neanche sottacere che c'è confusione. Adesso per esempio io sto facendo l'appello alla città e ai cittadini per differenziare correttamente, ma la campagna di comunicazione poteva partire a maggio dello scorso anno e soltanto adesso sta partendo una forma di campagna di comunicazione che a mio avviso non è assolutamente sufficiente e chiara. Addirittura ci sono le associazioni oggi, so che ci sono associazioni che si stanno in maniera autonoma organizzando per dare comunicazione ai cittadini, ma tutto questo è pagato alle ditte. Le ditte percepiscono delle somme per la comunicazione e devono fare la comunicazione. Quindi gli incontri con l'amministrazione sono degli incontri che hanno una rilevanza, cioè gli incontri servono perché le ditte comunichino che cosa stanno facendo. Quindi in fondo l'amministrazione può solo rilevare a seguito degli incontri che le ditte stanno facendo ben poco, che molte cose non le hanno fatte e che quello che hanno detto di star facendo lo stanno facendo male. Sindaco che ovviamente lancia comunque l'appello alla cittadinanza sull'importanza della raccolta differenziata. I cittadini devono fare la loro parte perché ciascuno di noi deve fare la propria parte, perché se la raccolta differenziata deve partire seriamente è ovviamente responsabilità di ognuno di noi.